Allora, l'apertura del pandoro. Sai vedere una specie di paluani natale con i fiocchi. Qui c'è lo zucchero a velo. Si prende praticamente il pandoro, che è questo qua, un dolce che in Giappone non c'è. Come potete vedere, questo qua è il pandoro. Poi si apre la confezione di plastica e poi praticamente si prende lo zucchero a velo. Allora, lo si apre, stando attenti a non versarlo perché è molto spero, veroso, eccoci. Si versa tutto lo zucchero a velo, tutto dentro alla confezione del pandoro. Come potete vedere, ecco, tanto zucchero a velo. Ecco qua, non è consigliato a diarretici e che ha il colesterolo come me, ma comunque. Diciamo che si può sopravvivere. Poi si prende il sacco, lo si gira per chiuderlo bene e poi, ecco, come una neve si scuote tutto così. Vedete vedere, è diventato tutto bianco come la neve. Tutto lo zucchero a velo. Cucaraccia! 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 Ecco, allora adesso, quando abbiamo finito, possiamo aprirlo e mangiarlo. ecco, questo è tutto buon appetito